Commercianti di Piazza Duomo ormai allo stremo. I lavori di Piazza Duomo in ritardi hanno generato un periodo buio a livello di incassi, presenze e disagi vari anche per i fornitori, non solo per loro e per i clienti. E c'è anche il discorso pavimentazione, anche se in questo caso i lavori procedono più spediti. Una viabilità che comunque durerà sino al 30 settembre per donanza incluse e per i commercianti, la situazione è divenuta peggio del postisma, una città senza parcheggio invasa da cantieri. È una situazione molto difficile perché i lavori vanno a rilento, la pavimentazione qui davanti a noi non va proprio così a rilento, ma poi ci sarà il problema successivo che sarà l'isola pedonale, che sarà un problema enorme, una città senza parcheggi, non possiamo fare solo una città di barbi, rerie, pizzerie, tavole calde, serve qualche altra cosa che attrae. Capisco che ci sono problemi legati al fenomeno web, però bisogna aprire anche altro. Poi c'è il problema degli scarichi, delle merci che non possono venire perché non trovano parcheggi, furgoni, c'è tutta una serie di cose che non vanno. Il commercio è a terra, ditecelo se dobbiamo andare via dall'Aquila, se ce ne andiamo. C'è però chi difende l'amministrazione comunale e spera nel risultato, sicuramente bellissimo, che sarà alla fine dei lavori. Michele Morelli ha due attività in piazza, la ditta ha dei ritardi evidenti, il comune più volte l'ha sollecitata, quindi non si può imputare nulla, la nostra amministrazione comunale sostiene. Al Tivitane ho due, una a capo e una a piedi piazza, quindi il problema è che realmente i problemi ci sono, l'altro giorno casualmente ho parlato con il nuovo capocantiere, ha fatto un mea culpa, loro si prenderanno le loro responsabilità, sono in netto ritardo e hanno l'impegno di chiudere entro giugno, quindi vedo però il risultato finale. Lo so, purtroppo i lavori pubblici sono così, tanta gente che parla secondo me non conosce la pubblica amministrazione e i tempi della pubblica amministrazione. Qui l'amministrazione si è sbracciata per far sì che le cose andassero come dovevano, non ci sono riusciti. L'amministrazione non ha colpe, finiranno i lavori, i disagi ci sono, però andiamo avanti così, però il risultato finale è quello che vedete.